Mentre percorrono faticosamente un ponte di legno su un fiume, le silhouette di tre figure e di un asino si stagliano contro la luna. In contrasto, un gruppo di figure comiche in primo piano è mostrato come se fosse illuminato dalla luce diurna. Compatti e rigidi contorni definiscono le forme, colorate con campiture omogenee. L'artista giapponese Hiroshige, di qualche decennio più giovane di Okusai, apprezzava lo stile austero del vecchio maestro, ma i suoi lavori erano più liberi e con colori più realistici. Le sue stampe sono diventate l'emblema dell'arte giapponese per la loro poetica semplicità. Considerate in Giappone una semplice forma d'arte popolare, quando vennero conosciuti in Occidente verso la fine del XIX secolo portarono nuova linfa alla pittura europea. Gli impressionisti in particolare furono colpiti dalla freschezza dell'opera di Hiroshige e Claude Monet collesionò molte sue stampe.